ciao a tutti ragazzi vedo il benvenuto a questo mio nuovo video sarà un video cioè di una recensione della birra bex avevo già fatto una recensione di un'altra birra tipo la birra di messina cristalli di sale e oggi c'è la birra bex allora la birra bex è una birra tedesca una birra di marca a bex una marca abbastanza conosciuta rispetto alle altre marche di birre tedesche di solito l'avevo avuta un po di a qualche anno fa che era una birra però era in lattina non era buona non la mandi neanche giù è un sapore abbastanza asproso però in bottiglia è meglio poi proprio non so se magari esistono anche sicuramente delle versioni alla spina però in bottiglia è buona l'unica cosa è un po asprosa un po maruccia ho notato che ha un tasso di livello di alcolico una birra alcolica a 5 gradi però è abbastanza pompata cioè sembra che ne ha di più insomma è abbastanza forte come birra è buona molto buona è una birra che ha delle qualità alla birra in bottiglia l'unica cosa è che se magari uno non è abituato a bere delle birre un po un po pesanti ecco a bex bisogna un po prenderci un po di confidenza perché di solito le birre tedesche anche le nostre italiane sono buone però diciamo che le tedesche come l'oktoberfest o la primavera festa che c'è lì a monaco di baviera alla riva di baviera delle birre bex hanno delle qualità in ori quindi questa bex ecco è di qualità però è una birra ecco forte ecco insomma per poterla vedere bisogna essere un po abituati a bere un po di birrette ecco non è come una classica oretti che è buona si manda giù che che è un piacere ecco lì la la bex invece è una birra è tosta ecco una birra un po pesante di solito lo bevo un po la sera quando mi guardo un film ovviamente delle si parla di una bottiglina in vetro che la bex una piccolina ma una birra piccola tipo un po più grande di una di una lattina non una bottiglia grande di birra anche perché dopo sarebbe troppo troppo pesante però ecco tipo accompagnato con un film ecco di solito io quando mangio tipo una pizza a birra avevo accompagnata da una pizza che di solito è la è la classica Oretti diciamo che l'Oretti in Italia è quella che ha avuto più successo di tutte le birre magari sono anche altre birre buone però l'Oretti è la classica birra del baffo che ha spopolato in tutte in tutta Italia ecco è la birra più 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 bevuta in Italia poi anche alla spina è buona perché perché l'Oretti è sempre buona ecco tutti la bevono va bene la si manda giù bene è buona ha un sapore buono e tutti sono contenti ecco questo è importante è una birra bresciana e i bresciani la sanno fare magari ci metteranno qualcosa che la rendono buona non so però ecco questa bex è una birra posta ecco la birra bex è per i editori di birra abbastanza abbastanza pesante ecco per chi perché è abituato a bere e sopporta un po l'alcol anche birre un po pesanti la bex ecco si fa ci fa sentire ecco bisogna un po essere abituati io vi consiglio la bex in bottiglia in lattina e non è buona non so perché sia così io l'avevo comprato come ho detto un po di tempo fa ma non era buona invece bottiglia o magari chi ce l'ha alla spina di nostro di bar che hanno la bex non li conosco qui che era vedendo o anche in italiano da tutti la inchiusa o corretti o delle birre tedesche di altre marche ma di bex non ce ne sono tanti e ce l'hanno però ecco come 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 vi dicevo ecco è una birra abbastanza posto adesso la vado a prendere che ve la faccio vedere un secondo solo a prendere che ve la faccio vedere un secondo solo eccomi qua scusate la tela ho qui questa birra qua birra bex ecco ecco eccola qui questa è quella che di solito bevo la la sera ogni tanto birra bex ecco questa qui è una birra piccola da 33 da 0 33 ed è una birra prodotta in scienze germania prodotta da axbush hack user usher e niente qui c'è differenza delle altre birre che noi che noi tutti conosciamo qui ha una data di scadenza che però di solito può può anche ariare però questa birra ha una data di scadenza e scadrebbe il 2 febbraio del 2022 questo tipo di birra qui e secondo loro scadrebbe alle ore 7 e 19 minuti di sera purtroppo questa ecco è la birra una birra come ho detto e marca quindi ecco il come ho detto è una birra che si fa sentire bisogna un po essere abituati a bere un po un po di birra ecco non è come una classica peroni come ho detto oretti bene ragazzi io avrei avrei già finito era solo una video recensione adesso volte a volte ultimamente non sto più facendo dei video perché non ho più idee e non ho più argomenti di cui parlare di argomentazioni magari mi arriveranno in mente un po più avanti bene ragazzi io vi auguro a tutti voi una buona giornata oggi c'è un clima molto buono diciamo c'è il sole quindi il mio consiglio magari andata al mare per chi ha il mare nelle vicinanze o in pineta a respirare un po d'aria finalmente siamo in zona gialla cioè a romagna è in zona gialla e possiamo prenderci delle libertà in più ecco finalmente noi siamo tutti stanchi questo queste cose questi coronavirus qua queste zone arancioni gialle arancioni non se ne può più ecco noi vogliamo che il mese di marzo sia un mese dove poter finalmente ricominciare un po a vivere magari per chi ha voglia di fare un viaggio di spostarsi o di ritornare a fare attività fisica nelle nelle palestre delle riaperture c'è già una data fissata il 5 marzo la riapertura ufficiale sempre ammesso che tutto vada bene ecco che non ci siano degli degli intoppi o un incremento dei contagi adesso a parte la recensione di birra bex un discorsino a parte ecco io penso che la chiusura delle palestre sia sia stata di una ingiustizia atroce perché fare attività fisiche quelle presta sono tutte controllate disinfettate hanno fatto dei protocolli e sicurezza era tutto controllato era tutto disinfettato cioè secondo me veramente chiuderle è stata un'ingiustizia ecco secondo me potevano restare aperte anche nella zona arancione perché fare attività fisica non fa mai male qualsiasi attività fisica sia può essere questo caso parliamo di fitness di sala pesi ecco sono magari tenere aperta solo la sala pesi e chiudere magari corsi non so tipo zumba o funzionale cose che magari potrebbe incrementare il contagio perché si fanno delle attività dove si suda molto si soffia magari si può si può spendere il contagio ecco però fare tipo nella sala pesi a un numero cioè più limitato di persone con tutte le preglie precauzioni necessarie anti covid si poteva tranquillamente fa secondo me la sala pesi poteva rimanere aperta sempre anche anche nella zona arancione magari in zona rossa no però nell'arancione o in zona gialla potevano restare aperti così come potevano anche restare aperti i musei perché chiudere i musei non potrà mai incrementare il contagio perché a mano che non non entri una sintomatico positivo e vai effettare tutti uno che è proprio positivo però ormai conosciamo tutti il virus facciamo i tamponi facciamo abbiamo i vaccini abbiamo già la cura e magari un domani avremo anche un farmaco quindi ecco cioè secondo me ecco chiudere tutto così in una volta anche certe certi stabilimenti tipo come i musei o palestre è una cosa è un'ingiustizia inaudita perché le scuole erano rimaste aperte lo stesso nonostante presentavano positivi invece i musei li hanno chiusi senza una ragione poi la palestra senza una ragione perché perché magari c'era una palestra in italia che non ha fatto cioè bisogna pulire chi sbaglia non è che devono pagare tutti non è che tutta l'italia deve pagare per colpo di una persona sola dobbiamo pulire quella persona che sbaglia secondo me è così ecco poi giustamente cioè io anch'io suonocco con loro con chi ha fatto questa protesta io riapro c'è stata anche qui a ravenna in centro due cioè due 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 ristoranti hanno aperto e hanno aperto giustamente perché erano allo estremo perché non c'è non ce la facevano più perché o mangiano o muoiono queste povere persone sono state costrette a riaprire no perché non hanno voluto rispettare le regole ma perché per un'esigenza economica estrema erano allo 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 stremo quindi ecco magari usiamo questi sanificatori purificatori dell'aria installiamoli purifichiamola l'aria disinfettiamo anche la social aria con questi sanificatori esistono cioè usiamoli ecco aiuterebbe molto secondo me bene ragazzi io avrei finito qui ciao a tutti